Ripartono i tirocini formativi per l'occupazione al Comune di Napoli, un'importante opportunità di avvicinamento al mercato del lavoro che per l'edizione 2011 coinvolgerà 28 giovani neolaureati in diverse discipline da ospitare presso gli uffici tecnici e amministrativi dell'ente. Si può partecipare al progetto fino a 27 anni con un curriculum di studi particolarmente brillante ed una laurea magistrale o specialistica conseguita da non più di un anno con almeno 105 su 110. Gli aspiranti stagisti selezionati dagli Atenei hanno tempo fino al 28 novembre per presentare presso la propria università convenzionata col Comune domanda di partecipazione. Saranno favoriti i candidati con il voto di laurea più alto e a parità di votazione i più giovani d'età. Credo che possa essere un'esperienza straordinaria, dato anche lo straordinario momento che sta vivendo il Comune di Napoli, cioè partecipare direttamente in queste stanze al rinnovamento della città. Sei mesi intensi che cominceranno poco prima di Natale, che quindi finiranno un po' prima dell'estate, certamente con pochi soldi ma ci auguriamo con un bagaglio di esperienza formidabile, che poi cercheremo anche di utilizzare, di accompagnare questi ragazzi per un inserimento concreto nel mondo lavorativo. I percorsi di tirocinio al via entro il 19 dicembre avranno durata di sei mesi per 30 ore settimanali e si articolano in una prima fase più teorica ed un ampio periodo di sperimentazione pratica che vedrà coinvolti i giovani nelle diverse attività del servizio. Per loro è previsto un contributo forfettario di 2.000 euro. Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere ai centri di orientamento dell'università oppure al servizio lavoro e formazione professionale del Comune in via Guantainuovi 25.